Ciao amici, sono Marco, sono un cantautore e sul mio canale intitolato Le mie canzoni, solitamente spiego e canto le mie canzoni o propongo dei pezzi cover che suono con la mia band Ikanapan. Oggi però voglio fare qualcosa di diverso, voglio dedicare questo video ad un evento strano particolare che è accaduto un paio di giorni fa, praticamente nella notte tra martedì e mercoledì di questo mese. Stranamente sono stati cancellati tanti iscritti sul mio canale e a quanto ho capito anche sul canale di molti altri youtuber e non si è capito perché. Dunque con questo video voglio fare un appello a tutti gli altri youtuber, soprattutto quelli con maggiore esperienza, per chiarire la situazione, se hanno informazioni, se possono darci delle delucidazioni o alla stessa piattaforma youtube, se appunto può spiegarci il motivo di questa cancellazione degli iscritti. Dunque sacrifico il mio argomento principale del canale, cioè la musica, le mie canzoni, per fare questo video di denuncia e di appello. Inoltre invito gli altri youtuber a stringere anche un rapporto di solidarietà per poter ricominciare a crescere, visto che appunto con degli iscritti in meno diventa sempre più complicato farsi conoscere, farsi notare e crescere su questa piattaforma. Vi invito in più a scrivere qualcosina nei commenti, a raccontare la vostra esperienza riguardo a questo avvenimento, quindi capire se anche a voi è capitato e soprattutto capire se c'è una spiegazione e quindi renderci partecipi tutti quanti. Comunque colgo l'occasione per suonare qualcosina, visto che comunque la musica non può mancare e in particolare una canzoncina che ho scritto proprio riguardo a questo evento strano. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere like e di lasciare qualcosa nei commenti. YouTube, 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 non mi puoi cancellare, gli iscritti questo no, non me lo dovevi fare. YouTube, 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 non me lo so spiegare, deve esserci un perché, qualcuno mi può aiutare. YouTube, 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 tu non lo sai qual è il lavoro che ci vuole, qui per farsi notare, per crescere, per ricominciare. YouTube, 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 ridami quegli iscritti, oh YouTube. Mi raccomando mettete tanti like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima canzone. Ciao!